Cari amici, che tempo farà nei prossimi giorni? Incominciamo con oggi. In questo momento, oggi sabato 11 di marzo, sul Piemonte e sulla Lombardia fa molto caldo. Penso che nelle ore centrali del giorno potremo raggiungere anche 24-25 gradi, ossia 10 gradi in più rispetto alla media prevista per questo periodo dell'anno. Per quale motivo? Perché oggi nel Piemonte e Lombardia c'è il fene, questo famoso vento che arriva dalla Francia e dalla Svizzera e che nel discendere, una volta scavalcate le Alpe, nel discendere nel versante padano si riscalda di circa 10 gradi per chilometro e quindi giunge su Piemonte e Lombardia non solo ventoso ma piuttosto caldo. Bene, il seguito della storia, come sarà il tempo nei prossimi giorni? Sì, diciamo fino intorno al 14-15 sarà più o meno piovoso ma poche piogge, direi di più sulle regioni tirreniche, 10-15 mm, direi delle inezie sul resto d'Italia, delle inezie soprattutto su Piemonte e Lombardia che sono le regioni più assetate. Quindi non c'è in vista la possibilità che questa siccità possa essere in parte sminuita. Poi dopo il 15 seguirà una fase meno piovosa fino a circa il 19 di marzo e poi potrebbe tornare un'altra fase piovosa ma di questo avremo modo di riparlarne.